Questa è una corda che viene utilizzata per le lavorazioni in quota. Per verificare questo tipo di corda non va mai calpestata perché è molto fragile. Per verificare che la corda vada bene bisogna piegarla e deve fare un semicerchio. Se fa una V vuol dire che la corda è danneggiata. Quindi io cosa faccio? La scorro e man mano che la scorro formo la V. Se vedo che forma una V è sbagliato. Deve formare un semicerchio. Quindi io continuo, vado avanti e verifico in questo modo che la fune sia in buone condizioni. Questo tipo di corde devono essere marcate e la marcatura è qua. Deve essere ancora visibile. Se non è visibile la corda, nonostante si riesca a fare così, deve essere sostituita. Per fare un punto di ancoraggio cosa faccio? Prendo la mia fettuccia, poi la posiziono qua, la tiro, prendo l'omnipresente moschettone, lo aggancio ed ho creato un punto di ancoraggio. Grazie a tutti.